Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Lezzinocraft con Iaco Rollo Salve Ragazzi in questo video faremo come al solito cose anomali Ma prima di cominciare volevo appunto farvi vedere le cose generali che sono state trovate Perché avevo il capito non ce l'ho messo tanto io le cose perché non le ho trovate io queste cose almeno non tutte E ci sono quelle di Iaco e alcune mie Intanto prendo subito gli aerei che voglio far spawnare tranne questo qui che lo scout se non sbaglio dovrebbe essere Lo metto subito qua perché se non sbaglio non si mette per terra perché dovrebbe essere Ecco infatti vuole l'Uavistation che si farà Anzi non si può anche fare in teoria ma non so se è craftabile aspetta un attimo Uavistation eccola qui Ah si si può fare si fa l'Uavistation allora anche oggi Si può fare Comunque Comunque Il dildo che ti ho dato prima dove l'hai messo Il? Il dildo che ti ho dato prima E qua nella cesta dell'ultimo E il mio regalo per il fidanzamento Per il tuo fidanzamento Questo qui ragazzi questo qui è una sorpresina per dopo Comunque Ho trovato anche una lavatrice Un coso per il dungeon E ragazzi guardate qua cosa c'è A parte Perché non me lo fa vedere? Ah ok si L'armatura di Iron Il Mark 17 E Mark 20 c'è anche Si ok 20 Però purtroppo non è completa Quindi probabilmente dovremmo aspettare di ucciderne un altro Di coso lì Di boss E poi forse se ci va bene Ce l'ha da completa Io spero di sì sinceramente Tutti gli armature che abbiamo Nemmeno una ce n'è completa C'è la 17 che ci mancano Solanto le scarpettine se non sbaglio E penso si riuscirà a fare Nel prossimo episodio comunque Facendo questo Off camera un pochettino Ho farmato i blocchi di Redstone Buttando via le cose che non mi servivano Da laggiù Che c'è appunto la nostra cosa Che farma Ragazzi I blocchi di Redstone rispetto alle altre cose Veramente ne danno pochissime di robe Una cosa anomala Comunque Wavistation serve Un diamante e dell'iron L'iron ce l'abbiamo qui Il diamante ce l'ho io Non lo ho tenuto Bene C'abbiamo tutto tranquillo Cioè Eh Tac Tac Guarda come si fa Tu non lo puoi vedere No Brutta storia Vabbè comunque l'ho già fatta praticamente Brutta troia Sei wonder woman Tu sai Nel fatti hai ragione Tu sai come funziona L'Wavistation Mi pare che servisse per Telecomandare qualcosa Guarda si mette qua Te lo dico Te lo dico Praticamente È un DS Man È un DS Sì esatto Esatto Io sono qua dentro Ho sbagliato qualcosa probabilmente Sì esatto Ho sbagliato sicuramente qualcosa Perché dovevo Devo scendere Non è che deve essere collegato No devo fare così E poi dentro l'Wavistation Qua ci metto il mio aggeggino Ok E lo vedi O era l'aeroplanino Guarda nelle Dove sono gli animali Dove sono gli animali Jaco Dove sono gli animali Ti vedo Ti vedo Ti vedo No stai guardando Mette Guarda dove sono gli animali Ma scusa Dove è uscito Questa cosa Eh ce l'ho messo io dentro Oh oh guarda Oh cavolo Oh cavolo Ok Ma tu sei un drone adesso Sì Io sto guidando il drone In questo momento Anche se sono lì Man posso Visto che sei già là in alto Puoi tirare giù Il Come si chiama La tavola da surf Volante Aspetta aspetta C'è qualcosa che è andato storto Qualcosa è andato storto Ok 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 Si guida malissimo Te lo dico Praticamente non è come L'elicottero normale Che tu premi spazio E va Ma non appena te lo voglio vedere In F5 Uh bellissimo Bellissimo da vedere Lo posso rompere? No non me lo rompere Non me lo rompere Ma non va Aio Iaco No era per vedere Se si poteva rompere Mi hai levato il collegamento Ma si che lo puoi rompere Un elicottero Provalo te scusa Vai lì Appena ci clicco al destro C'è uno slot libero Mettici l'elicottero dentro Ci sono tanti UAV Se non sbaglio Eccolo bellissimo Guidalo Iaco Guidalo Però non va E pensi No no funziona Funziona E' un po' anomalo Ganzo Praticamente tu sei lì Però stai guidando Questo cosa qui Come guidare Un elicottero Radiocomandato Aspetta possiamo fare una prova Cosa? Vediamo Attento che spara Quella geggio eh Sì tranquillo Vediamo fino a quando Si perde il segnale No man man Va lontanissimo Se non è infinito Quindi non andare troppo lontano Veramente Allora niente Non indietro Perché se non è infinito Ma che figata Cioè sapere che io Tu non sei veramente lì dentro E' una figata assurda Se andando dalla parte sbagliata Iaco Iaco Sono uscito da racconto Per sbaglio E gli dittroni Saranno per i cazzi suoi Lo spacco Lo spacco Lo spacco Lo spacco Men non si spacca Men non si spacca Ora precipita Men precipita Eeeh Salvo io No 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 Ok Uh è rotto L'ho salvato L'ho salvato Perfetto Perfetto Torniamocene a casa Iaco Non c'è rimasto nulla Da vedere qua dentro Ok perfetto Quindi andiamoci Ma prima Prima Iaco Dovevamo fare una cosa Molto importante Con la Redstone Infatti l'ho farmata apposta Per fare quelli I random dungeon Col coal Il coal ce l'abbiamo Iaco Io non lo so Perché se non sbaglio L'abbiamo utilizzato tutto Se non sbaglio Iaco L'abbiamo utilizzato tutto Per fare la chemical coal Eh si No aspetta Ma che vada No ne so Per certo che qua c'era Perché l'ho visto Nel mio ultimo video Eccolo qua 32 svam Perché io Quando edito i video Dico ah ok Cerchiamo quella cosa E l'ho trovata lì Ok Te l'ha scritto un foglietto Per non dimenticare Per non dimenticare Iaco Per non dimenticare Comunque Ok più o meno ho fatto tutto Quanti ne riesco a fare Ehm Questo è un problema Questo è un problema Allora C'ho l'inventario strapieno Però Senti Iaco Ti do il dildo Vieni qui Te lo butto per terra Vienila a prendere Attento a non fare cose Allora Andiamo lontanissimo Andiamo all'arena Che te ne pare Ah no No Prima di andare all'arena Buon Iaco Vieni qui Vieni qui Vieni qui Torna Vieni all'aeroporto Eh sono all'aeroporto Bisogna posizionare ieri Ieri che abbiamo trovato Ah è vero che abbiamo trovato Oh quello del barone No Questo va nell'acqua E questo va nel Spaccalo No anzi Sì se spazio lo spaccalo E te lo butto tipo Dopo si mette nell'acqua Poi c'è questo qui Che è quello lì Tipo questo qua che abbiamo noi ora Guarda bellino La copia Si vorrebbe utilizzare in futuro La lavatrice Vi sono scusato Di posizionarla Che Vi abbiamo chiesto Se volevate la sfida Con l'aereo e i cannoni Eh perfetto Guarda bello questo Guarda bello questo No e Facciamola qui Dove sei Perché ragazzi Qua dove sono io Ah ok si scendo scendo Fallo pure Faccio qua Sì sì fai fai Avanti Usai Del detto Allora ti faccio vedere Come funziona Guarda Questo qui Allora visto che adesso Ti sei fidanzato Dovrai pulire la stanza O comunque Sì penso di sì Però tu sei pigro Ci pensano le femmine Eh però se te lo chiedi di fare Sai Per la sera Per festeggiare Comunque Se metti giù questo Sì Tu vai via Come vado via Non funziona Vola via Vola via Eh Guarda come si fa Vedi È un rumore strano Sì Aio Ah uccide anche in aria Ma mi ha Mi ha shottato Uccide anche in aria Ma mi ha shottato Ma dove è meno Non usare l'armatura In casa sennò Uccide anche i vicini Ma io ho un'armatura potentissima Come cavallo ho fatto a uccidermi Guarda cosa ha lasciato Non so dov'è Oddio lo vedo dalla minimappa Ma cos'è questo materiale Ma ha spaccato gli alberi Aspetta Scavo questo materiale Voglio vedere cos'è Non me lo fa prendere Ok ora si È Transformium stone Se ci si fa il Transformium Con questa roba Oh no Qui si fanno altri E col Transformium Genere Ecco con il Transformium Si fanno tipo le spade strane Le katana Perfetto Le armi strane Bene prendi questa Il flamethrower E un lanciafiamme Figo Ci si fanno le armature Ci si fanno i blocchi Ci si fanno il jet Qualcosa Che figata Di questi oggetti qua Aspetta Il Transformium Detector Quindi ci dice dove sta il Transformium Questo qua mi sa E poi con i blocchi Con i blocchi di ago ci si fa il lagegino Eh E si lagegino Eh infatti Che si fa poi con l'Energrun Cube E il block of Diamond Ma guarda Ha trasformato anche le foglie In cosa Ma quindi che dici Si prende poi Si prenderà in off camera Si 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 vorrebbe farmare off camera In modo molto easy Ma provate a scavare sotto Quanti livelli ha fatto sotto terra Ehm Mi sa un bel po' No Eh Tre strati sono Dipende dai punti forse Ma vedi che è colpito in aria Perché vedi Sotto gli albri È normale Eh si ma con questo Ne possiamo fare altri Cioè in teoria Ne basta prendere pochissimo Per farne altri Però il fatto è che Li farmiamo Così faremo Transformium E col Transformium Bisogna vedere Se ci si fanno cose buone Oppure no E' vero Ho visto alcune armi Veramente belline Comunque Iaco Ehm Dove sei te? Eh A quello che fu un'arena Adesso non è più l'arena Ragazzi Ma è il mondo del giocato Allora facciamo così Io vado in un punto Tu mi segui E lì si aprono i Lucky Block In Lucky Block Sei buona I Random Spawner Dungeon Ok Iaco Questo qui sembra Un posto decente Per fare queste cose Quindi te ne do A occhio alla metà Che dovrebbero essere All'incirca Un posto decente Ma fino a Due chilometri di là C'è la zona vecchia Cioè Sì lo so Infatti sono andato Nella zona vecchia E poi vabbè Comunque ce l'hai qua davanti Vali a prendere Tre, tre Giusto? No, no Sono qua Iaco Sono qua Sono qua davanti Quanti? A caso Vicino a una statua Guarda io ne voglio spawnare Uno qua Dall'altra parte Che poi ragazzi Scusateci Ho visto che Nell'ultimo video Che abbiamo fatto così Ce ne erano sfuggiti Un pochettino Purtroppo ne facciamo spawnare Veramente tanti insieme E quindi Oh guarda Guarda Iaco Questo qui è quello Della dimensione Delle formiche È vero È vero È una palma Sono dei termiti Sì vabbè Sono formiche comunque Per dire Però non siamo mai esplorati Questo qui Perché l'abbiamo sempre confuso Per un albero Dentro ci trovava Ah I Peacock Boots Non sono male Il riso poi L'ho fatto spawnare anch'io Guarda Guarda se tu hai trovato Qualcosa di diverso Oh 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 Vieni qua Man hai visto cosa ho fatto spawnare io Guarda cosa ho fatto spawnare io Aspetta Vengo da te Ah quello delle vespe Niente quello delle vespe Prima ne piazzo uno Ok Ehm Quello delle vespe Guarda io ho fatto spawnare No quello del The King Aspetta Man che Aspetta Se mi ho fatto spawnare No quello del The King Ti ricordi che nel tuo video Il The King Non abbiamo potuto prenderlo Perché il bug non funzionava Abbiamo un altro uovo di The King Quindi Perfetto Quindi già in un prossimo Non nel prossimo Ma in un prossimo video Potremmo andare a uccidere di nuovo Il The King Per appunto ottenere Le cose che ci servivano Appunto di Iron Man Magari Se ci va bene Si trovano anche top Comunque qua è pieno d'oro Smeraldi Lapislazzoli Allora io ho trovato il buco Delle vespe Ti ricordi Delle vespe? Lo gigante Coro per terra Sotto terra Ho trovato poi Delle vespe sotto terra Che vuol dire? Sì sai il quadrato Il buco che andava sotto terra C'erano tutte le casse volanti Qua Questo qua Ah sì 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 Ho capito Ho capito Poi ho trovato questo altare qua L'altare? Ho trovato la fabbrica Se non sbaglio L'ho visto utile per qualcosa Questo Eh ne ho trovato la fabbrica Ti rendi conto? Sì vabbè ma tanto Allora ci si può esplorare Perché alla fine C'è un bordello di redstone Quindi si esplorerà Magari dopo con calma Anzi no in verità Lo voglio fare ora Ti dirò Voglio perlomeno Le varie spawner Perché gli spawner Non ci servono Soltanto noia Per riguardo alla redstone Si può prendere dopo con calma Perché veramente È molto più facile Prenderla da qua La redstone Che andarla a farmare Questo c'è da dirlo Quindi Iaco Cominciamo Distruggiamo gli spawner Vieni dentro anche te È un casino Non muore questo Perché? Mi sa che è buggato Oddio ma fa esplodere tutto È pazzo È pazzo Non è pazzo Ma sì Ma no Questo è buggato Iaco Non prende danno Ce n'è uno che è buggato Sono tutti perfettamente Muoiono in modo easy Però uno è buggatissimo È un casino questo È un casino Ok Li stai spaccando gli spawner Eh Vado a prendere più con Sì adesso lo faccio Ok top No senti Ce n'è uno Veramente una cosa anomala Sta qua dietro Ok ce l'ho fatta A spaccare gli spawner Però lui è Noi non ci muore Ma che è un robot Sì Ma non ci muore Sarà il capo dei robot Il robot incazzoso Eh la madonna Addirittura Eh può essere Poco qui Droppano i cubi di redstone Sì sì Ma no Quale bello è che c'è Proprio ti danno la redstone In modo anomalo Cioè Ci sono blocchi ovunque Proprio Te lo sbattono in faccia La redstone Sì ma meno male Perché ne avevo spiegato un bordello Non volevo stare lì a farmare Sì sì È un bucacca di resti Ok un pochettino Eh ho preso le robe Allora per ora Possiamo definirlo Esplorato questo dungeon E anche terminato Eh Yaku io qua ho fatto spawnare Due dungeon strani Di cui uno È tipo strapieno di Eh No ah io fanno male No Ma con l'era Sì l'abbiamo trovato quello Nel Nel land Questo? Non me lo ricordo io No nel Questo no man Perché si è fatto con la terra Allora no Assomiglia all'altro Sì quello Assomiglia molto a quello del land Questo non si è mai trovato Mi sa Comunque se riesce a venire qui Perché mi stanno picchiando le farfalle Non riesco a spaccare gli spawner Oh madonna Ah io fanno Eh man fanno male Non sembra ma fanno male È pieno di cristalli Di cose strani qua Ma cos'è veramente? L'armatura qua è messa abbastanza bene Meno male che posso volare Con questa armatura qui eh Anch'io Detto proprio così Allora qua ci sono dei Five fish Avete fatto un cazzo Man Oddio 13 crystal apple 13 Ti ricordi cosa sono le crystal apple? No Quelle che ci danno Forza Sono buonissime Ma questo qui allora è un dungeon Delle dimensioni Delle formiche Delle formiche Delle formiche Però non capisco perché Perché è strana come cosa Le crystal apple si trovano Nelle dimensioni di cristalli Ti ricordi quella del cristallo? Eh no Infatti sai che mi sa che invece Questa è quella dimensione Delle Delle termiti Man allora Di quali non lo so Sono quelle dove c'erano tutti i blocchi strani Ti ricordi? Delle termiti Quelle bianche Esatto E quella di cristallo Quella di cristallo Però non so perché è fatto con la terra questo E anche No si è giusto Giusto così Questo coso qua non ho mai capito Che cosa fosse E degli scorpioni Se erano trovati una volta nel deserto Ma erano troppo forti per noi Comunque bisogna entrare da sopra qua Ma mi buttano fuori Mem Mi buttano fuori Come si fa? Non mi ricordo che materiale è sta merda qua Dopo si vede con calma Provo a spaccare tutto Ok perfetto L'abbiamo uccisi Ah io mi spingono Mi spingono Ribalzo come non so cosa Mi stanno a cattare male Madonna il dolore Mi fanno male Aspetta li uccido un pochettino Ok un po' li uccisi Rientra pure No non riesco Ok Le manca uno Rotto Qua cosa c'è qua dentro? C'è il blocco sopra Madonna mia Madonna mia Oh 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 Mi uccidono Mi uccidono Jaco Jaco mi uccidono Vieni vieni fuori Da sopra Ok Qua sopra c'è lo schifo Ecco Ci sono un po' di ferie per le ragazze Non ho di particolare Ok allora Dove arrivano? Ma io penso che ci sia Sono i blocchi che ti fanno rimbalzare qua Eh si ma va Non hai capito ancora E ti fanno danno mentre rimbalzi Aio aio Fa malissimo Quindi fa malissimo Ci muoio Non ho vita Fega Veramente? Sì Ne ho due da far spawnare Due in numero Ho messo giù tutto Ok perfetto Allora io intanto metto giù questo E L'avevamo visti tutti? Sì Semmerebbe di sì Ok Quindi allora metto quelle Metto già che ci sono anche l'altro Tipo lo metto qua Sopra l'albero No non posso Lo metto sotto l'albero Allora così al caso Il materiale non ti permette di mettere il coso Il materiale Dell'albero No No si vede perché sono foglie Forse sopra le foglie non si può mettere Non lo so sinceramente Un altro dungeon strano Ehm Da dove è che si vede? Quale? Questa qui è la piranha Ah no ma è spawnato sopra Ecco perché non capivo È spawnato sopra Allora praticamente c'era questo dungeon qui del The King E sopra il dungeon del The King È spawnato un altro dungeon del The King What the fuck? Veramente? È perché l'ho fatto spawnare io E l'ho spawnato così Ma è figo Perché comunque Questi qui sono blocchi di coso infiniti Di quarzo infiniti È buonissima come cosa E così abbiamo due uova di The King Iaco Perfetto Come l'ultimo dungeon è rimasto questo qui Che è quello dei nightmare Che giusto per giustizia Io ci vado dentro E entra anche te di cattiveria No ma va Mi piacevo io Iaco Fallo Ok Non mi puoi lasciare qua solo Perché comunque Se no mi consumano tutta l'armatura E comunque dai L'ho già distrutto tutti C'è una striscia distrutta C'è anche l'altra qua spaccata Cioè ormai è diventato easy Cioè tu forse non lo capisci però Ti ricordi il disagio Ragazzi non ti voglio recuperare l'episodio del disagio Che poi era anche un tuo video Iniziale Sì Minta me nei ricordi I ricordi proprio Sì veramente Per chi vuole ricordare i momenti di tristezza In questo canale Perché eravamo scomportati noi Sì ma ragazzi Qua ci eravamo stati veramente Forse 40 minuti era stato Contro questo dungeon qui Perché ragazzi Era impossibile avvicinarsi E c'era il mio zainetto dentro Che tristezza Comunque Oddio ma Finiamo di decidere Perché non ho anche Tanti rumori di questi schifi Ok dentro ci stanno Le fire charge Che non servono a nulla Ah no a verità servono a qualcosa Ma Nulla di particolare Mi sembra A parte roba esterane L'overboard Che ci siamo già parcheggiati davanti a casa Gli squid e zuga Che non servono a nulla Schifiezine varie Martello Big hammer Non serve a un cavolo L'arco L'arco Iaco prendilo se non ce l'hai Per aggrare tipo Il The King Quando spona Eh prendilo tu Che io sono uscito A vedere un attimo una cosa Ok vabbè Ne lascio uno dentro L'altro prendo Perché c'è un lac Ho trovato un lac Un lucky block Cosa c'è trovato dentro No no li apri Io Ok man Sto per uscire Sto per uscire Vieni verso il fiume Verso il fiume E vedi l'isoletta Qua Ah qua nascorso Non si vedeva Eh si Man io ho paura però Un click un click Uh attenzione Non finisce qui Allora Voglio buttarci dentro Ok non ce l'ho buttato quello lì Voglio buttarci dentro la nugget Anzi ma se invece di buttarci dentro qualcosa Ci vado io dentro Man Vado in missione Vado in missione Addio mondo Vai No no qua si incazza Qua si incazza Oddio Oddio Ok man Però per fortuna Che non sono così difficili da uccidere Mi sono buttato dentro il pozzo Appi appi ovunque Man Ti è buttato nel pozzo Sì Cosa geniale da fare O ci buttavo qualcosa O mi ci buttavo io E ho scelto di buttarci Come sei E beh man giustamente Scusate Non voglio mica buttarci dentro il coin Ma stiamo scherzando Quindi ragazzi Spero che questo video Leggissimo Vi sia piaciuto Ovviamente il prossimo Sarà sul canale di Iaco E quindi Ciao a tutti Così proprio così Ciao a tutti Sì così Ciao Ciao